Le stelle di Azus 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 Vi permetterà di ricaricare le batterie In vista dei prossimi impegni Pesci Quando cominciate a farvi troppe domande Rischiate di andare in tilt Non può esservi sempre fornita una spiegazione Ogni tanto dovreste accettare la realtà così com'è E con l'oroscopo di oggi è tutto Le stelle di Azus Vi augurano buona fortuna E vi invitano su Facebook Alla pagina Oroscopo di Azus Alla pagina Alla pagina Alla pagina